Ciao ragazzi, siamo su Pokémon Marrommedda. Merda. Ma perché? Insulti! Insulti tua madre! Che poi, ah la risulta è più bassa, mi è un po' abbattato. Come sarebbe da un cane? Io non capisco se è un televisore con una cosa di spazzatura in antenne. La piraccia! Devi introdurre il gioco. Te scuri, te scuri. Guardate il mezzaccio, guardate che proprio vuoi. Allora, per vecchio dimanare, new name, mettiamo il cost. Cioè, ma sto gioco? Eh, non ho senso. All'ennesima potente. All'essi, guarda qua. Senta che si è buggata all'essi. Poi non capisco perché è buggata la risoluzione. Senta che c'è buggata la scheda video. No, la scheda video no. Pensavo al tuo mondo da me. Ah, mi vuoi? Non è giusto. Ma sento, questo è il mio nickname. Mi si è offeso. Dopo che ancora la tua faccia fa fare rischi di questa cosa. Belle critiche! Vabbè, comunque vuoi fare qualcosa di utile. Andiamo. Vabbè, sì. POSTER! Cioccolà! Il cost è vero. Dove è capito stato? Ti è vero. Stava svuotando? Ci ha colato! No, no, no! No, 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 no! C'è un cos'è 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 un cos'è? Non lo è che cosa mi sa finché? Dove è parlare quando il produttore, no, no. Hai visto? Ti fai messo in questa cosa! Sinceramente? Hai in camera tutto? E no, no madre! Ah, stai... io credo che ce ne sta scopando di qua oggi ho messo la zocca l'aveva comprato di marocchini ma non c'è senso proprio per pro c'è un professor di cecao ma fa un basso che è già bendevole per te cos'è un'idea di matellina e gli ingroppei la madre vabbè lei ci sono sta iniziando oh nooo vabbè che non mi fa premere questo oh lo so oh lo so oh lo so vediamo tukat no set off on region map vediamo gothan gothan singh poi che c'è terra di ondor città laggiù agistofoli la terra di mezzo monopoli inutico termopoli termopoli volgo fonnari alberopoli negropoli conmirelli berto city che seca polio ssssss alberopoli non c'ha senso ma ha senso non ha senso si dicono sia ottimo va sedile andate pure il posto per giuggerli non c'è nessuno di voi oh che non hai trovato il baddacone della casa a fianco baddacone poi la casa è fatta di non c'è che cosa sei ma che voglio fare mi sono solo tu dai quali di la mancia no non c'ho fatta non c'ho fatta andiamo eeeh ssssss come c'entrivo allora quale cosa quando fero così freddy fa sei volte al giorno alla fidanzata monologo di goldoni oh no amore amore nooo è soppresa è soppresa it's a new game and you can't and you can't connect to serve as a brother che dopo le scritte sono in inglese questo gioco mi fa mi sta facendo ammattare di risate a me c'è gesù 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 no me lo ho vedere non le ho vedere non le ho vedere non le ho vedere non le ho vedere anche di stare una sentita mi dicevo scemo mi fa un po' che ho dato il sacco di quelli avevano fatto di pietre che fai andiamo eeeh Rendei, Rai, tutti i Pokémon Legendai c'erano Suicune Questa merdina Questa merdina E poi questa merdina Io perdro questo Io lo ammazzo Poi l'azione Accidenti asce che c***o Stavo cercando se tu l'impeatete quando hai mai attaccato il suo campo Mi hai salvato Oh! Ma tu sei dei coglioni Cosme 23 Vieni perché ti diamo a visitare Dove c'è tu sei? Ah, Dr. Royce Se mi sono scattato Ho deciso di bezzo arco alle mutande di me Non so che Prova Minecraft Per Signor Potter E... No Si tiene la merdina Sì Perchè non dai un soprannuva alla tua membina? No Quel baddeccone di mia figlia nel percorso 103 Perchè te la vuoi cercare? Certo Ma dovrebbe essere finisce ora uno di piani Sai? Si era stupato di avere solo i vecchietti Che ti insegna a catturare i pomi E sei blu, rosso e giallo Non so... Non so perchè... C'è... A me è successo in basso Non so... Magari è la rune stessa Ok... Mezza letta male Si... 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 Siis... Ah siis... Se... Te... Siis... Siis... Bu... Ah non ha distopoli Mico i teschi Siis... 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 Ehi mico vuoi del fumo? Vieni con me Poi non ha distopoli eh Io so spazio... Ah... No 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 Poi guardate... Poi se nemmeno di che ti fai vedere i tanti Fa vedere i tanti Fa vedere i tanti Dove cosa si vuole? E' un bello da gocce Vi raccomando Allora... Non siamo razzisti qui Siamo proprio razzisti Allora... Dimmi Devi prima andare a cercare il baddeccone Su per quella salina Coglione Ma poi dicono delle parole? Proprio... Ma dopo... Ma poi non c'errebbe stemmine? Poi dopo quello avessi Sarebbe stato... Sarebbe stata tolta Ecco Eh... Meta hai poglio Meta... Dovrebbe essere Meta hai poglio Meta hai poglio E questo avrebbe più tu di quando pensassi Mi sono indegnata Mi sono indegnata Vattene... Questa non te ne pare proprio le passate qua Dei qua molto grossi Dai... Badraccamei Va Torky Eh... Certo... Beh che quente lui ne... L'ha modificato questo Quente lui c'ha... I pokemon... Che c'ha... Va bene... Sapete Non ho modificato questo Bene... E ora se non ti fascio potrei tornare al cipollogodro mi aspetti con le operazioni e poi si bugga tutte le cose a caso e qua non c'è ne so ragazzi adesso metto la room un po' a fare speedhack penso per questo primo episodio di pokemon maromed sia tutto ciao 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 a tutti